L'ambiente, rischio, territorio ha bisogno di azioni integrate di prevenzione del rischio. Noi lo facciamo con questo evento, che è un evento di sensibilizzazione e anche, come dire, lo spunto per una raccolta fondi per sostenere anche vittime di violenza ingiustificabile e ingiustificata. Tra queste Manuel Bortuzzo e la piccola Noemi, che in questi giorni ancora sta combattendo la sua faticosa battaglia per la vita. Violenza tra giovani, bullismo, criminalità. Nell'ambito delle azioni educative per il benessere e anche attraverso la prevenzione del rischio, l'Associazione Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio organizza la seconda edizione di una corsa su un percorso compreso tra Piazza del Plebiscito e Piazza Vittoria. La gara podistica non competitiva si terrà domenica 9 giugno con partenza alle 9.30. Noi ci vogliamo stringere intorno a queste storie e sembra che la cronaca cittadina non voglia assolutamente risparmiarci. Orrori negli orrori. Noi siamo qui a rappresentare il fatto che contro la violenza si deve correre, tutti assieme, uniti contro il tempo. Noi dobbiamo ritrovare la forza della comunità educante. Molto spesso i ragazzi ricevono indicazioni su dove andare, difficilmente trovano qualcuno che li accompagna in un percorso di vita. Il progetto di vita, aver trasmesso il futuro come minaccia, la competizione a tutti i costi, qualche modello non proprio giusto, ha dato i suoi frutti purtroppo. Ma va anche detto che una minoranza non può e non deve assolutamente sconfiggere chi corre tutti i giorni. La corsa, la maratona è proprio questo il simbolo. L'ambiente, la metafora forte è quella della resistenza. Cioè esistere e resistere ancora di più.